Insomma, eri artesissimo, hai corso da ex direttante con dei professionisti di livello, Moric, Valverde, Modolo, come è stata la tua gara? È stato più che altro emozionante, sapevo che la gente qua non avrebbe deluso, e anzi ho corso in realtà con i brividi e un po' di imbarazzo tutta la gara, perché ogni curva, ogni salita sentivo il mio nome, sentivo il mio nome di coltivo e questo per me è la cosa più importante. Poi c'era la mia parte, che era solo mia, quella che volevo dimostrare qualcosina, sapevo che non era impossibile, con alcuni personaggi mi sono contento e ho fatto il mio, ma per sentire urlare il tuo nome si è dovuto passare al grave. Esatto, ma penso che era tutta gente che, non solo io, ma tutto il nostro gruppo ENAF è riuscito ad avvicinare a questo ambiente, e secondo me il 99% che urlava il mio nome è semplicemente gente che gli piace andare in bici, quindi questa è la cosa più importante. And what about the next edition?